Io ho sempre più da memoria, chi è il dirigente all'urbanistica quando sono dati che hanno i dialogizzazioni? No, no, quando sono stati dati che hanno i dialogizzazioni, sono stati un valide che è anzionatore, che non sono stati sposati, ma è stati dati da lei, lei nelle cose, nelle cose diciamo che io le consegno, ha indicato i dirigenti della comunità, che però è è consuetificabile. Dice no, io sono stato da due ore. Di fatto, lei non va in contatto con il consigliere d'arte, che appassiona a sentire la sua direzione, che è davvero il consigliere d'arte del tutto il rilevante, e le spiego anche il perché. E le spiego anche il perché. Allora come adesso, noi dobbiamo evidenziare un animo che, allora come adesso, la riguarda personalmente e di chi, allora come adesso, cambiando un po' le le pace, ha ritenuto fortuno essere un suo seguace. In quel consiglio comunale, che ricordo bene il consigliere d'arte della mia memoria di contatto, c'era anche il consigliere Puglietti, se ricordo bene, c'era il consigliere Troilano, se ricordo bene, se ricordo bene c'era anche il consigliere Capano, ma non vorrei stringermi oltre, lui dice no, io ricordo di sì. No, no. C'era il consigliere dei suoi applazotti in quel consigliere comunale, che si raccontati così, dopo il suo lato, senza questa vita, in quel consigliere di si trattere, invece è il consigliere di lo fatti e le evoluzioni sono. Cosa cosa sui ha ascoltato e il consumo, l'arte e le malicolosi, quali io mi conosco diretto di te questo che mi trinta, ritro tremi a l'ioca, al silenzio, al soldati dalle del sindaco Palzo, io la ringrazio di essere qui, perché il memoria da una dignità culturale è possibile che rispetto alla trasformazione interiore, il sindaco Iasola non ha mai espresso un'opinione, non ha mai dato un atto di indirizzo, non si è mai occupato quello stesso sindaco Iasola, che vengono ricordati al consigliere Iasola, vengono in quale consigli comunali sono stati approvati, che sono in essi i consigli comunali, e ricorda bene il consigliere Iasola, probabilmente il senatore, in quel consiglio è stato approvato e non solo il consigliere Iasola, ma da verificare, ma da verificare, e la presenta anche il consigliere Iasola, da verificare che a questa dichiarazione riferita all'anno è stata trovata, io penso di non, poi le porterò la documentazione, lei veniva più per la data, a tutti i nostri a tutti i nostri a disposizione, non si preoccupi, non si preoccupi, allora in quel consiglio comunale come non è la consigliere Brasotti, per questo ricordo che ben a me e Francesco Brasotti in quel consiglio comunale non c'è, perché dove sono stati approvati? Sono nel 2003, poi glielo ho fatto quella che era fatto con quella legge, e in quello fuori di patito, caro senatore, caro potenzio di legge, la prego, e con le regge, la prego, e con le regge, la prego, e si prende la parologia del senatore che c'è in un interesse, e come dire, raccoglie questo sovolo, e con il ragge, quando tu ho approvati il consigliere Francesco Brasotti a Torano, l'hanno ben approvati, io ho preso il nostro sovolo, con un contatto quando si è trovata la regge, perché poi ho sentito il sogno del giovane consigliere Brasotti, di quanto quella approvazione si è accostata alla città di Brasotti, il consigliere 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 Brasotti, c'è lo stesso identico che quello che stanno facendo, cosa vuole essere la regge? Entriamo nel mezzo, se io ero in un imprenditore in un'altra cosa e io politica ritengo che potevamo sostituire la convenzione, nella quale convenzione ritengo che secondo gli studi ad un'altra tecnica a cui abbiamo dato l'opportunità come ente di partecipare al gruppo scurdo, anche qui su Giappone, 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 su Giappone. E' un'altra tecnica che è sviluppo per la pratica, evidentemente dal nostro clima che c'era non confundere le 100 uffici e le zone, non si avrebbe anche 100 casi, è evidente che quei 100 uffici dovevano servire come volato di sviluppo per questa città. Cosa dice, è stato tanto tanto che dice, la possibilità di costruire altri altri, ma io ho giunto un po' carcere a dove? Come dire, da soddisfazione, poi quando si alza dei contenuti di quello che dice, riesce a colpire, prestutivamente, da un cecchino, prestutivamente di aver colpito, prestato qui, ma nemmeno, se hanno, da prestato i suoi metri, e questo è un altro appello di, è il battito educativo, ma non da prestato i suoi metri, non da prestato i suoi metri. Ma non da prestato il sistema, capirse? C'è un'altra cosa, che questo sistema che c'era più una droga, che c'era più una droga, che c'era più una droga, che si voleva vivere nel 2012, Dopo che per tre anni ha preso il giro di rimasta, facendoci intendere di morire un sistema alternativo a quello che per tre anni aveva come bella questa città, diretto da chi non ci siete. Degnamente, aggiungo degnamente, alla professione del Presidente dei Dio. Lei questo si ha fatto credere, questo mi ha fatto credere, per questo noi abbiamo un debut come forza politica più importante che con lei si potrebbe cambiare una casola in diventa. Così non è stato. E quello che lei non cita, mescolando in quella storia, che tra l'altro non è importante, non fa nulla di nessuno. Perché anche la storia degli scendimenti, dove io, io, Consigliere Comunale, prima che me lo ricorda lei, dopo aver fatto, ha sceso un fuoco a vita nuova, mi dirò, ho sciolto, per l'indicazione di oggi. E non c'è stato un fuoco a vita nuova, mi dirò, 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 mi dirò. Ma il fuoco a vita nuova, mi dirò, 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 da una locale, partendo dal marzino principale, dal loro muto, dal loro che per me si allontanano, dandomi a me, dando a me la soddisfazione di poter interrompere solo il meno giusto. Facendo poi delle varie ultime cose, caro senatore, anche qui, non vedo, non vedo, non vedo, a chi parte del dirigente dell'autorità, il quale chiede come dica e da parte di chi che parte di un certo sostenibilità e di un certo sostenibilità, ma vogliamo rivedere anche sulla questione di tutti i bambini, noi abbiamo un caso che non si può gridare come vera cosa, ad esempio, noi facciamo un intervento, e iniziamo, definitivamente ci sono dei documenti, e iniziamo a mangiare dei documenti, intanto gli uffici stanno rascendendo speditati, ci sono documenti, documenti, dove si vede che il cambio è stata dichiarazione di parte delle posizioni alieniche, da un uomo della sua giunta sedatore. Noi dicevano che noi sono eravamo questioni, procurato all'arne, in parola della commissione, procurato all'arne, dico di chi si attivano le posizioni, e adesso manca la documentazione, manca la documentazione che nessuno ha coraggio di ammettere che ciò che il partito dell'autorità aveva detto è la rispondenza a me, da quel giorno di silenzio, da quel giorno di silenzio, nessuno ha fatto l'azionale, di andarsi a mettere che il partito dell'autorità aveva fatto una battaglia aggiunta, perché ognuno pensa come un dicevo, sempre se ci fossero, sempre se voi pensate che non ci sceglie, se ci fossero, sempre se ci fossero, e non si vuole pensare invece alla opportunità di credersi e ragionare, anche in questo caso, sulle questioni serie che ci dovrebbero appassionare, a prescindere dal modo valorevole del consigliere dell'autorità aveva detto, che comune votare qui, e che comune nessuno votare di grande, che assiste a la prescindere, di altre strutture di chimene. Grazie a tutti.